Buonasera, ben trovati al consueto appuntamento del martedì 19.30-20.30 con la rubrica Il sindaco risponde, quindi potete fare tutte le vostre domande. Questa sede il sindaco non è potuto intervenire, però c'è il vice sindaco Andrea Michalizzi. Tra poco lo presenterò, però prima vi do i numeri per interagire con noi. Per la diretta 049, le telefonate 8077753, per i messaggi 345-3341171. Oppure il sindaco risponde chiocciolagruppotv7.com se volete mandare l'email o sulla piattaforma di Facebook, nella pagina di AirPort, potete mandare i messaggi anche da quella pagina lì. Buonasera, vice sindaco Andrea Michalizzi. Buonasera. Ho molte cose da chiedere prima di attendere i messaggi. Sarò rapido allora. No, 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 lei spieghi, ovviamente, caso mai le do io il tempo, va bene, televisivo. Allora, è arrivato proprio dalla prefettura una nota proprio pochi minuti fa, anzi alle 16.45 per esattezza, che c'è stato un brusco abbassamento delle temperature, possibili disagi alla circolazione a causa di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio sul manto stradale. Come sempre, già chiesto a lei, il Comune di Padova è pronto? Ovviamente sarà pronto anche per questa emergenza eventualmente. Sì, il freddo sta tornando a pungere, lo vediamo, anch'io arrivando qua in studio, insomma, abbiamo commentato il freddo insieme. Il piano neve del Comune di Padova è già operativo da quando è iniziato l'inverno, già diverse volte siamo usciti con i nostri mezzi spargisale. Qual è il compito dei mezzi spargisale quando escono? Escono tutte le volte che le temperature vanno sotto zero la notte in modo particolare. Spargiamo il sale a seconda del livello dell'abbassamento delle temperature o nei 100 punti sensibili, rotatori e sottopassi, cavalcavia, quindi quelle strade che sono più rischiose da impegnare con il ghiaccio o se invece la situazione è più difficile, anche nella viabilità principale della città. Noi spargendo il sale, anche se non nevica, scongiuriamo la formazione del ghiaccio e quindi cerchiamo di limitare la possibilità, il pericolo, insomma, di qualche scivolone. Ovviamente il consiglio che diamo, oltre al lavoro che facciamo noi, è quello della massima prudenza, avere la vettura in ordine, le gomme in modo particolare e tenere sempre ad occhio la temperatura. Sotto gli zero gradi c'è il rischio di qualche scivolone. Ma sento, quando c'è questa emergenza, sono tutti reperibili? Certamente, noi abbiamo un'organizzazione che prevede la collaborazione di società private, aziende private, in tutto abbiamo la disponibilità di 24 mezzi che possono essere in base all'occasione dei mezzi spargisale oppure in caso di nevicate abbondanti possono essere dotate della lama per spalare la neve in caso di grossi quantitativi e quindi 24 mezzi, tutti collegati con il GPS e quindi da una centrale operativa noi possiamo anche vedere qual è lo stato del posizionamento e la situazione in tempo reale. Inoltre abbiamo la protezione civile che è impegnata e loro si occupano delle zone pedonali i piazzali, alcuni marsapidi strategici, dove si fanno i mercati ecco, si cerca con tutte le forze a disposizione di rendere il più possibile agibile la città in caso di nevicata, è quello il disagio più grosso. È ovvio che quando nevica tanto poi i disagi sono inevitabili l'azione del sale serve a rallentare o diminuire l'effetto della neve che si attacca, che si deposita o di tardare la formazione del ghiaccio. Assolutamente, poi ricordo tanti anni fa, non mi ricordo l'anno ma credo sicuramente più di dieci anni fa e c'è stata una sera che le temperature si erano abbassate in tempi rapidissimi e Padova era ghiacciatissima in tutte le strade e c'erano difficoltà davvero enormi per spostarsi di 500 metri ci erano tre ore, quattro ore, per scherzo, a Chiesa Nuova e in tantissime altre parti di Padova. Quella serata lì è stata una serata ancora che la gente si ricorda. Me la ricordo anch'io, fu una serata di gelo terribile, io ero all'Arcella, al cinema di Via Tiziano Aspetti e si potevano vedere le macchine che non riuscivano a salire sul cavalcavia Borgo Magno perché all'epoca la gelata arrivò con anche un vento freddissimo che gelò completamente le superfici che erano umide, che erano bagnate e creò grossissimi disagi. Un disastro. Va bene, sono arrivati i primi messaggi, andiamo Elisabetta con il primo. Perché tutti questi negozi chiusi in centro, affitti troppo alti, acquisti calati, che tristezza però? La crisi morde anche le zone più competitive da questo punto di vista. Il centro storico è la zona più frequentata della città ma si vede comunque l'effetto. Probabilmente una politica dei prezzi è difficile calmerarla perché sono privati e quindi va cercato il giusto equilibrio. Va detto che noi stiamo cercando in ogni modo di favorire la fruizione, la frequentazione delle nostre zone deputate al commercio. Il centro storico ma non solo, anche nei quartieri dove abbiamo realtà in cui i commercianti sono organizzati in associazione e quindi attraverso di loro possiamo anche sostenere alcune iniziative. Certo ci piacerebbe fare di più però ormai le festività natalizie, i Black Friday e tante altre manifestazioni ormai caratterizzano Padova con una grande iniziativa e devo dire che il nostro centro complice anche un flusso di turisti che sta aumentando molto, aumenta l'interesse della città di Padova a livello nazionale ed internazionale. insomma è vivo. Sarebbe bello che ci fosse come dire anche quell'equilibrio fra affitti e costi quindi e disponibilità degli imprenditori per tenere i nostri negozi sempre aperti, le nostre vetrine aperte. Tra un po' arriva il Carnevale e anche lì abbiamo delle manifestazioni in programma. Leggiamo i messaggi prima. Andiamo con il secondo Elisabetta. Non potete aumentare le corse degli autobus? Negli orari delle scuole non si può salire e bisogna sempre aspettare quello dopo. È sempre una politica che sicuramente premia ma va finanziata e noi anche in questo periodo di crisi non vogliamo aumentare la pressione fiscale. sarebbe importante, lo stiamo dicendo, la regione Veneto è tra le regioni nel nord Italia che finanzia meno il trasporto pubblico locale. E questo credo che sia una pecca. E quindi? Devono aspettare. E quindi noi con l'energia e le risorse che abbiamo e gli introiti che abbiamo dall'abilitazione e un po' dal sostegno che diamo come amministrazione e insomma sosteniamo il nostro trasporto pubblico locale. Regioni come la Lombardia, l'Emilia Romagna finanziano molto di più le città. Scusi Michele, alla domanda precisa del telespettatore cosa le risponde? Che per il momento deve aspettare? Per il momento è questa la disponibilità che noi abbiamo. Andiamo con il terzo messaggio. Volevo sapere se è in previsione di intervenire nel settore cultura per rendere ancora più accessibili mostre e musei. Lo chiede Maria. Accessibili? Per accessibilità intendiamo come dire tutti quei supporti e sostegni alle persone con disabilità il settore cultura sta avviando un progetto per rendere migliore la visita delle mostre e dei musei anche per i sordomuti. Ecco questa è un'iniziativa come dire attuale che oggi risponde ai criteri di accessibilità. Stiamo cercando di garantire anche un numero alto di mostre e questo come dire rende anche Padova attrattiva sia per i padovani che possono fruire anche di contenuti culturali tra un po' parte la mostra su Frida Kahlo ma anche come dire per i turisti. Andiamo nell'ultimo di questa serie di messaggi Elisabetta. Farete altri bacini di laminazione oltre a quello di Brusegana già realizzato e che dite funziona? Allora il bacino sta dando buoni risultati anche se diciamo dobbiamo ancora metterlo alla prova su eventi più abbondanti. Sulle bombe d'acqua diciamo. Esatto sulle bombe d'acqua sarà lì come dire un test interessante. Baccini ad oggi di quelle dimensioni non sono previste se non in operazioni per l'invarianza idraulica ma lasciamo perdere questo aspetto. No dobbiamo insistere però nella messa in sicurezza della zona ovest della città che ad oggi è la zona più fragile da questo punto di vista. Quindi il comune ha realizzato il bacino ma insieme al consorzio di bonifica e il nostro gestore del servizio idrico abbiamo realizzato un protocollo dove ciascun ente si fa carico come dire di intervenire con investimenti e opere per migliorare la sicurezza idraulica di quell'area che ad oggi l'area ovest è quella più fragile. L'opera più strategica è il cosiddetto canale equilibratore. Un'ultima opera importante fatta in città da questo punto di vista è il canale Limanella Fossetta che ha messo in sicurezza la zona nord della città. Questo sarebbe un canale per lo più interrato che offrirebbe una grande capacità di smaltimento delle acque. Ad ovest insieme al bacino che l'amministrazione comunale ha già realizzato sarebbe come dire un'opera che completa il lavoro di rendere più sicura quella zona. Senta Vice Sindaco, il problema della siccità che è un problema ormai che è constatato perché sta accadendo questo nella nostra città allora il Consorzio di Bonifica del Bacchiglione propone l'utilizzo del canale Lebe per portare l'acqua dall'Alduce e per portarla ovviamente nel Bacchiglione e dal Bacchiglione ovviamente portarla a Padova però Verona è un po' contrario, è nata un po' di discussione di cosa è successo Verona non vuole darvi l'acqua e quindi si mette in difficoltà Padova Devo dire che la siccità che è arrivata, che abbiamo visto i canali in secca l'estate scorsa ha colpito tutti quanti noi e Padova non è stata la sola città insomma è un tema che dobbiamo tener conto il Consorzio di Bonifica ha fatto quella proposta di utilizzo dell'acqua del Lebe è un canale artificiale che serve soprattutto per l'irrigazione che fa parte del bacino dell'Adige è una proposta che esce anche da un tavolo che abbiamo aperto qui a Padova che ha promosso il Comune dove c'è il Consorzio dove c'è anche il Genio Civile e tutti gli enti che sovrintendono alla gestione dei canali Qual è la razza? La razza è quella che in un momento storico in cui dobbiamo fare i conti con i periodi di siccità e quindi è cambiato l'equilibrio tra territorio e acqua dobbiamo cambiare anche la politica di distribuzione dell'acqua quindi noi ci rendiamo perfettamente conto che la coperta sta diventando corta da questo punto di vista ma i territori non possono essere lasciati soli e i dati che abbiamo noi oggi a disposizione che commentiamo con il Consorzio di Bonifica e con il Genio Civile ci dicono che le portate d'acqua in questa fase sono molto basse rispetto alla media storica e che quindi noi il periodo di siccità lo avremo di nuovo molto probabilmente, a meno che con le piogge non cambi lo scenario ma ad oggi questa cosa non c'è lo avremo e probabilmente potremo averla prima dell'estate quindi già primavera quindi consapevoli che l'acqua è corta non dobbiamo innescare nel territorio regionale una battaglia dei campanili ma qui noi abbiamo chiesto alla Regione che convochi un tavolo di coordinamento perché i territori devono far fronte insieme a queste cose devono farlo ora prima che sia troppo tardi perché questa primavera potremo avere di nuovo grossi problemi canali in secca nella nostra città cosa significa? Significa problemi igienico-sanitari la moria di pesci per chi l'ha vista e per chi vive vicino ai canali è stato un fatto molto problematico con ripercussioni dal punto di vista igienico-sanitario l'immagine dei canali in secca è un'immagine che nuoce alla nostra città e cambia l'equilibrio anche naturale del nostro territorio e poi alcuni servizi ci vengono a mancare ne cito uno l'inceneritore di Padova che non serve solo alla città di Padova ma è un impianto regionale senza i livelli d'acqua sul canale non può funzionare perché attraverso l'acqua del canale che fa funzionare i suoi impianti di raffreddamento fermare quell'impianto è un danno non solo per la nostra città ma per l'intero sistema regionale e pensiamo a tutti gli altri danni connessi alla navigazione, al turismo e via discorrendo quindi è importante che da oggi ed è questo quello che chiediamo alla regione si apra un tavolo no la guerra dei campanili la coperta è corta ma dobbiamo avere una politica di territorio e una politica regionale forte che risponde a un tema nuovo ma che rischia di essere drammatico telefonata pronto, buonasera con chi parliamo e da dove? buonasera con Nadia e parlo da Padova sono della zona Madonna Pellegrina saluto Andrea che conosco di persona e soprattutto anche la sua segreteria tanto gentile Andrea per piacere potresti aiutare gli anziani io dalla Madonna Pellegrina per andare all'ospedale devo arrivare a Santa Giustina aspettare andare dietro Ponte Corvo fare tutto lo stradone per entrare una volta io ho fatto anche il volontario in ospedale tanti anni c'era quando c'era Zanonato c'era l'autobus un pollicino che dal centro venì o dal Prato della Valle passava in centro veniva in ospedale e avanti indietro portava la gente che aveva anche finito la visita con celerità io l'altro giorno sono andata in ospedale ma è stata una tragedia è stata chiarissima e comprensibilissima e credo che abbia tutte le ragioni il vice sindaco Michalizzi se c'era questo poi tra l'altro proprio per un problema che chiedete meno macchine in centro meno ovviamente consumo di gasolio di benzina in modo tale che non si inquini l'atmosfera prendere un pollicino che porti i pazienti è una cosa straordinaria perché fuori dall'ospedale per aspettare il 24 che arrivi in Prato della Valle e aspettare il 3 che arrivi qua andare con l'autobus ci vuole quasi due ore in più il tempo andrei a fai per le nonne signora Nadia è stata chiarissima e la sua richiesta chiede grazie 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 la sua richiesta è legittima Michalizzi se si fa portavoce con Ragona con chi di dovere credo sia ho capito che ha un costo però anche gli ammalati ne hanno bisogno insomma chi deve andare in ospedale ne ha bisogno ed eviterebbe ovviamente per gli anziani anche per chi usa la macchina trovare un parcheggio scambiatore poter andare col pollicino dal Prato della Valle faccio un esempio come diceva non è un'idea campata in aria lo farò ne parlerò con mio collega Ragona l'ospedale deve essere raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici dalle direttrici almeno quanto meno dalle direttrici importanti Nadia solleva un tema che è corretto mi aggancio anche a quello che dicevo prima ci piacerebbe fare di più in questa direzione perché è giusto il fatto che gli autobus arrivano vicino all'ospedale ce ne sono e parecchi il problema non è questo è collegare i quartieri a questo sistema da parcheggi scambiatori dove le persone hanno bisogno un pollicino che faccia questo credo sia una cosa insomma meritevole come ho capito che voi mi direte costa soldi costa soldi però credo sia una cosa da fare insomma da un punto di vista anche umano soprattutto sì credo proprio di sì faccio il nodo al faccioletto? va bene faccio il nodo al faccioletto grazie Nadia andiamo in pubblicità rimanente con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti